Musica Ennesimo disagio questa mattina per gli utenti della ferrovia Chiorgia-Rovigo. La corsa automobilistica delle ore 7.05 da Chiorgia e quella delle 7.53 da Rovigo sono state cancellate da sistemi territoriali, mentre quella ferroviaria delle 7.35 è stata sostituita da una corriera d'emergenza, con conseguente aggravio di tempo per chi avrebbe dovuto raggiungere il capoluogo polisano entro una data ora. Già in piazzale stazione a Chiorgia, l'autobus aveva raggiunto la sua capienza di posti a sedere, obbligando a rimanere in piedi gli utenti saliti da Sant'Anna in poi, un ennesimo disservizio che spazientisce ancora di più chi ne necessita e non lascia sperare soluzioni per risolverlo. Una buona e una cattiva notizia per Chiorgia arrivano dalle decisioni prese negli ultimi giorni dal Consorzio Venezia Nuova. La prima riguarda il Forte di San Felice, per il quale l'ente lagunale ha disposto che i lavori di recupero più sostanziosi verranno fidati a Tetis e Agriteco, con solidate imprese di restauro ambientale e sostenibile. Oltre al ripristino della fruibilità per gli edifici storici e per le vaste aree verdi del complesso, le due aziende dovranno anche dare concretezza alle destinazioni d'uso cui verrà sottoposta una parte del Forte. La notizia meno buona sta nel blocco delle opere di compensazione del Mose. In pratica, attuato dal Consorzio, nonostante i progetti esecutivi siano stati vidimati dal provveditore alle opere pubbliche, cioè l'ex magistrato alle acque. Si tratta di circa 30 milioni arenati, pur presenti nelle casse, e da dividere nei vari interventi lungo tutta la gronda. Anche Chiorgia e Sottomarina sono inserite in questo discorso e quindi di conseguenza dovranno attendere che per qualche elemento si sciolga la situazione. La conclusione del Mose, più volte rinviata, è prevista nel 2021 e con esso quello delle opere di compensazione. È uno dei casi editoriali del periodo e l'ha scritto un professore Chioggiotto. Confessioni di un NIT, opera prima del 31enne Sandro Frizziero, è sulle vetrine dei principali negozi di libri, oltre che ben recensito dai massimi media del paese. Merito di una scrittura fresca e avvincente e di un tema attuale quali lasciarsi andare di tanti giovani e meno giovani che non lavorano, non studiano e non si preparano a un nuovo impiego. I NIT, appunto. Fra autoironia e un'osservazione quanto mai minuziosa della realtà, qua e là appare anche il profilo della città, dalla sua iconografia alla descrizione della riva nord di Sottomarina Vecchia, Chioggia Azzurra ne ha parlato proprio con l'autore stesso dell'Exploit. Allora, premessa, sapete che io faccio la pubblicità della camera, quindi io sono di parte, però guardate questo banco, guardate quanto assortimento, guardate quanto tipi di pesce, a buon prezzo, di importazione, ma anche locali, soprattutto locali, aperti qui comodamente in questo parcheggio, qua i saloni, in una riva trova sempre il posto, quindi cosa vorrete di più? Pesce locale, qualità e in più anche simpatia, perché questi ragazzi, oltre ad aver fatto dei corsi, anche vengono incontro alle esigenze di tutti, dalla casalinga, ma anche all'operatore turistico e al ristoratore. E quindi cosa aspettate? Oggi, dalle ore 18, a Palazzo Morosini, in corso del Popolo 1327, a Vigo, sede dell'assessorato alle politiche sociali, il Centro per l'affido e la solidarietà familiare dei comuni di Chioggia, Cavarza e Recona promuove un incontro pubblico per far conoscere l'esperienza dell'affido familiare. Il centro mette a disposizione un'equipa multiprofessionale costituita da una psicologa, un'assistente sociale e un'educatrice, che spiegheranno il proprio lavoro quotidiano, risponderanno alle domande e daranno informazioni su come diventare affidatari o volontari in progetti di vicinato solidale a prevenzione dell'allontanamento di bambini della famiglia di origine. Ci sono molti modi di donare il proprio tempo a un bambino, spiega l'assessore alle politiche sociali Luciano Frizziero. Si può acudirlo a tempo pieno o per qualche pomeriggio, nelle forme di affido familiare o per tempi più brevi, ad esempio in esperienze di vicinato solidale, fino a che la famiglia non torni a potersi occupare di lui. È una forma di volontariato che non aiuta solo i bambini, ma indirettamente sostiene anche le loro famiglie quando si trovano in momenti di fragilità. Invito tutti i cittadini interessati, o semplicemente curiosi, a partecipare a questo appuntamento del CASF, per avere tutte le informazioni necessarie. Per l'appuntamento odierno è gradita la prenotazione al numero 041 55 34 093 oppure via mail a casf-chioggia.org Avrà luogo oggi, dalle ore 16 e 30, il sopralluogo della seconda commissione consigliare, presieduta da Davide Penzo, alla situazione di Punta Poli, più volte segnalata dai residenti con riguardo a svariati problemi. Sotto le lente dei consiglieri comunali, che si ritroveranno davanti al mercato itico all'ingrosso per poi proseguire lungo via Poli, saranno l'afflusso dei camion, i relitti nautici abbandonati, il crollo delle fondamente, la pulizia della riva e il sollevamento di polvere. Amici di Nettoca Azzurra e Meteo Brollo, buongiorno a tutti, naturalmente buon mercato. Dunque, dopo la novosità statificata con dei leggeri piovaschi che hanno interessato le nostre zone ieri e dovute appunto sempre a quello a fondo diciamo depressionario presente nel bacino mediterraneo sud-occidentale, le cose stanno lentamente cambiando e portandosi verso il bel tempo. Perché? Perché un'alta pressione sta di nuovo riguadagnando terreno, si porterà ancora più massivamente sulle nostre zone nord-orientali nella giornata di oggi e domani e un pochino meglio sabato, garantendo di fatto un miglioramento delle condizioni del tempo fino a cielo abbastanza terzo e stabile, almeno fino a domenica pomeriggio. Naturalmente, anche le temperature massime guadagneranno terreno, si riporteranno ancora su valori tardo-estivi, naturalmente, toccheremo ancora i 21-22 gradi in alcune zone della prima padana anche i 25. La giornata più calda sarà sicuramente sabato dove questo promontorio anticiclonico troverà la sua massima espansione. Però, eppur si muove, qualcosa però nel comparto europeo sembra cambiare, come vi ho già accennato. Dopo l'espansione di questo promontorio, nel bordo orientale di questo anticiclone cominceranno a manifestarsi delle correnti fresche di grecale che porteranno con sé un cambiamento del tempo in maniera sostanziale. Come lo farà? Lo farà attraverso delle fredde correnti, quindi vento, che dovrebbe inserirsi domenica pomeriggio sera anche sulle nostre zone, dando luogo anche una certa copertura nuvolosa con qualche effimero piovasco appunto portato da questa copertura. Dopodiché si intravedono due impulsi freddi nella parte balcanica che dovrebbero completare questo quadro portando le temperature massime non oltre 17 gradi e temperature minime fin verso i 10 gradi. Quindi speriamo in un primo cambiamento stagionale e staremo a vedere quello che questo insidioso vortice depressionario balcanico riuscirà a produrre. Intanto godiamoci queste 62 ore di bel tempo. Buon mercato! Ci sentiamo domani!